Amici siamo sul ponte che passa sull'autostrada nella zona industriale nei pressi di Arcella e vi vogliamo far vedere che anche questo ponte non ha il guardrail ecco qua quindi guardate c'è solamente una piccola rete tra l'altro molto fragile ed è pericolosissima perché tenete conto che qui passano ecco dei camion come avete visto in questo momento dei mezzi di grande cilindrata e quindi nel malaugurato caso dovessero sbandare qui non c'è assolutamente nessuna protezione perché come vedete c'è semplicemente questa questa rete inconsistente non c'è il guardrail come vi dicevo e in alcuni tratti è anche rotta questa rete quindi bisognerebbe subito intervenire perché è una zona molto transitata e necessita di una barriera protettiva come vedete qui già qualche macchina è andata a sbattere per fortuna non è successo niente ma si è ammaccato perché poi ho detto è proprio inconsistente sia qui anche qui è tutta rotta anche qui anche qui è successo qualcosa e qualcuno è andato a sbattere quindi bisogna assolutamente intervenire. Ci rivolgiamo all'ANAS ci rivolgiamo alla provincia ci vuole assolutamente una barriera protettiva